Ciao, sono Lindsay, sono molto contenta qui in Novara, il mio primo anno, grazie mille per tutto, questo partito è un po' facile, però la prossima è un po' più difficile, è sempre questa partita e questa squadra è molto buona e ci vediamo. Una grande vittoria per noi, perché per me Novara è nel primo quattro del campionato, una squadra molto molto forte e noi non abbiamo giocato molto molto bene, un set e un'altra metà set, però è una grande vittoria in generale.